Avete sentito l'intervento appassionante, io conosco gli annunzi da un tempo talmente lungo che non ho mai dubitato che la sua posizione è così contro le tendenze prevalente, così al fine dallo spirito di Sciascia ha reso una profonda verità. Vuol dire che ho raccolto due smentite, che sia Cavallaro e gli annunzi non condividono la mia tesi radicale che la mafia si è data natura e quindi vi rassegnerò ad ammettere e se viste credo che entrambi, nelle posizioni più moderate, quella di Cavallaro, più radicale ma entrambi con la condizione che la mafia c'è, possano essere utili per il costituzione del museo, dal punto di vista di Artuzzi sarà in viso da parte della magistratura ma è importante che ci sia, è un punto di vista che non corrisponde all'accomodarsi a una verità preconfezionata. Devo anche dire che mi ha molto colpito vedere che in sala è presente anche il primo difensore di Contrada, l'onorevole Emilio, il quale non intende parlare, ma ha vissuto una militanza politica importante come toccò a me nella scelta di una difesa di un uomo, nella incertezza della sua colpa. Adesso arriviamo alla persona più importante rispetto allo suo destino umano che è stato il fondatore di Forza Italia e prima di essere il fondatore di Forza Italia era mafioso come adesso, tanto che non c'era preoccupazione che lo fosse. È un po' come Andrea Otti che era mafioso fino a 1980, sono le 5 del pomeriggio, un giorno di ottobre, poi dal primo domenica non è stato un altro. Cioè è una cosa che colpisce abbastanza dell'elaborazione molto attiva di queste sentenze, in cui tutto è detto in maniera tale di confermare una cosa e le gambe di schiena. Io conoscevo dei Lutri quando non era mafioso e mi sembrava uguale adesso. E spero che certo nella fondazione di Forza Italia sia cercato ancora una volta, con l'intervento costruito sul piano ideologico, di fare confluire l'ombra della mafia e forse anche una questione che riguarda il suo vestito personale. Io parlo con il suo moglie, se fosse rimasto in Italia, sarebbe stato mafioso lo stesso, ma non sarebbe stato condannato. Quindi io sono stato condannato, e il Corriere ne parlò in prima pagina, per una cosa che non si può dire. E infatti non ho detto neanche il nostro annunzio, ha parlato di processo politico. Io rispetto al processo Oltreotti ho parlato di sentenza politica, benché deputato sono stato condannato perché non puoi dire di un magistrato che fa una sentenza politica. Vuol dire che ha sbagliato, è uno stronzo, vuol dire che tu mini il principio stesso è la sua oggettività. E siccome uno che veniva dal 68, e quando eravamo nel 68 eravamo tutti i convicchi che abbiamo della mafia, fosse Andreotti, quando poi dal 68 diventa un magistrato, cerco di fare il processo che gli ha chiesto non violante, ma Pasolini, di possessare il palazzo. E divento veroe che affrica quello che allora era la nostra battaglia nelle strade di studenti e diventa invece l'opera di nuovo. Ora, io credo che questo fatto possa essere una seconda ragione per me di querela. Il processo a Dell'Utri ha prodotto, non è un processo politico, ha prodotto una sentenza politica. Cioè che se Efi non avesse fondato Forza Italia, poi invece sarebbe stato. Quindi da questo punto di vista, credo e spero che caselli di querela una seconda volta e mi condanni l'incastratura una seconda volta perché io sono convinto che alcuni processi producono sentenze politiche e il processo Andreotti fosse e sia stato un processo politico. E la sentenza è una sentenza politica, sofisticatissima, perché lui proprio fino a una certa ora nel 1980 è mafioso, però vuoi più. E siccome fino a questo momento c'è la prescrizione, io dico che sei mafioso, contemporaneamente ti assolgo. Una capacità formidabile di creare un'alchimia di cui una persona che stasera non è presente, perché era un altro innocentista, che io stimo come attento consultore di cose le immagini di Francesco Lalicata, un autista della stampa, mi ha dato una radiografia, c'è una sentenza fatta apposta così, per non dare la condanna a Andreotti, per non dare tutto a caselli. E non consentire mai di dire come processo è un processo politico in una sentenza che stessa politica. Presumo indietro, lo possiamo sapere, che se nel 94, nel 93-94 Dell'Utri non avesse fondato Forza Italia, non sarebbe mai stato mafioso. Posso dirti una cosa? Questo che dice, dopo la prenotivazione della condanna di primo grado, è assiomatico, è in sentenza, perché era cominciato con la storia dei quadrini, che lui procurava i quadrini della mafia a Berlusconi, hanno fatto l'idea di Dio, le perizie, eccetera, insomma, non hanno lavato un ragno dal buco. Per cui nell'ultima fase, e i giudici che ha condannato ha ricevuto, la tesi della procura, esplicitata dal stesso inglese, è semplicissima, e non è più la storia dei quadrini. Ammazzato Rinna, nella mafia, questa è la tesi scritta in sentenza, si sforge come se fossero le primarie di Mombardi, no, no, Rinna, ha arrastato Rinna, ha tolto di mezzo Rinna, si sforge nella cosa nostra, una come le primarie nei partiti, ci sono due tesi, una è quella di Bagarella, che vuole fare un partito della mafia, che si sostituisca la bici, che tentano pure, si chiamano Sicilia Libera, ma non funziona, e una è quella di Provenzano, che punta invece su Dell'Utri, dice voi siete pazzi, il partito ce lo fa Dell'Utri, Dell'Utri convince Berlusconi a scendere in politica e poi fa il partito. La motivazione della condanna è precisamente questa, non è più quella del partito. Dell'Utri è condannato per concorso, tanto è bello, perché qui c'è una forte contraddizione, che lui è costretto a dire, perché i sani e gli lo fanno notare agli avvocati, si effettivamente a questo punto si può passare dall'accusa di concorso all'accusa di mafia, di associazione mafiosa dell'Utri, chiaramente un'associazione mafiosa dell'Utri è Provenzano, che dà la nascita a forse è tanto. Va bene, allora detto questo è chiaro che molto, quello che sentiremo sarà particolarmente interessante, forse detto in modo più chiaro che in altre occasioni, visto che noi siamo molto maievici, ma mi chiedo anche, perché non è mafioso Giuliano Urbani, che ha fondato pure l'Italia, e perché non è mafioso... 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 Tu sei solo siciliano, quindi 20% io posso accettere il sinio... Grazie.